Il Paese cambia e con esso le sue imprese. A soli quattro mesi dalla conclusione della rilevazione diretta, l'Istat ha diffuso oggi nel Palazzo della Borsa, in Piazza Affari a Milano, i primi risultati legati al nuovo censimento permanente delle imprese. Il sistema produttivo italiano viene in qualche modo monitorato e si ha quindi la possibilità, soprattutto per le stesse imprese, di cogliere le opportunità, la loro collocazione, i settori che in qualche modo sembrano più efficienti, la possibilità per esempio di conciliare, lo abbiamo visto, sostenibilità e reddito, cioè produttività. L'indagine si è svolta in una fase di radicale trasformazione e ha interessato un campione di circa 280 mila imprese. Emerge un sistema impegnato in una faticosa transizione, transizione in termini di comportamenti e strategie più evolute, in termini di digitalizzazione e di sostenibilità. Un aspetto positivo è dato dal fatto che il dinamismo imprenditoriale sembra presente anche in molte piccole imprese e soprattutto il fatto che nel momento in cui l'impresa mette in campo comportamenti espansivi, comportamenti più orientati alla crescita, il premio in termini di produttività, redditività ed espansione del volume di affari è rilevante. Secondo i dati raccolti, la fotografia che esce dal nuovo censimento permanente restituisce un'Italia fatta per i due terzi da micro imprese. Piccole imprese che stanno venendo fuori da una crisi molto forte, una crisi che negli ultimi anni ha inciso tantissimo sulla loro resistenza, però piccole imprese resilienti, quindi una grande capacità, una grande voglia di innovare, di investire sulle persone, di investire sulle competenze e quindi su una ripresa che può esserci a portata di mano dei piccoli imprenditori a patto che investano anche su driver come la sostenibilità sia sociale che ambientale. E rispetto agli ultimi anni un dato che stupisce riguarda la sempre più crescente attenzione delle imprese alla sostenibilità. Siamo quindi di fronte a un'evoluzione del nostro modello produttivo in cui un'impresa se vuole essere competitiva deve anche saper essere sostenibile e saper curare il proprio capitale umano.